Accuse o, molto più probabilmente, millanterie e illazioni. Che comunque non sbaventano Cristiano Ronaldo e che i suoi avvocati hanno prontamente bollato come falsità denigratorie, preludio a una controrisposta in sede legale Stiamo parlando delle parole riportate sul sun di Jasmine Leonard, la modella e protagonista del grande fratello in Inghilterra con cui il portoghese ha avuto una relazione una decina di anni fa, dopo i tweet della showgirl, che ha però poi cancellato il suo profilo Il tabloid inglese riporta alcune sue dichiarazioni nelle quali CR7 è definito uno psicopatico, raccontando di presunte minacce mi ha chiesto come avrebbe reagito mio padre vedendo certe mie foto Dopo aver aver detto di no alle sue proposte mi ha contattato continuamente negli ultimi 18 mesi ma gli ho risposto che non intendevo essere la sua amante Punto racconto che poi prosegue con l'affondo, io non ho paura di lui, ha continuato infatti la Leonard, e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono molti, ho le prove per farlo E adesso farò di tutto per aiutare Catherine Majorga nella sua causa per stupro contro Cristiano Ronaldo, la gente, ha concluso, non immagina di cosa sia capace Se sapesse solo la metà di quello proverebbe orrore, accuse che, ripetiamo, i legali di Ronaldo hanno prontamente rispedito al mittente, bollandole come falsità e illazione